Sono Carlo, Meccanico.pro. Le pompe acqua sono componenti fondamentali per il corretto funzionamento della tua vettura. Ma a cosa servono esattamente? La pompa dell'acqua è un rotante che permette al liquido refrigerante di circolare attraverso l'impianto di raffreddamento del motore, mantenendolo così a una temperatura costante. Carenze nel sistema potrebbero provocare danni importanti al motore. Per questo motivo è necessario che la pompa dell'acqua venga controllata sistematicamente. Porta la tua vettura nelle officine.pro dove installiamo solo pompe acqua originali o di qualità equivalente per mantenere valida la garanzia della tua auto. Scopri qui sotto i prodotti che utilizziamo.